Ciao, sono Isabella e benvenuto nell'app Dish POS. In questa esercitazione ti guideremo attraverso il processo di login e logout. Nota, se si dispone di un dispositivo NFC è possibile accedere anche con una carta NFC corrispondente. Nella schermata di accesso è sufficiente aggiungere il codice di accesso dell'utente utilizzando il campo di immissione. Una volta inserite le credenziali appare il pulsante di accesso. Tocca login per accedere all'applicazione. Dopo il primo accesso della giornata è sempre necessario selezionare un cassetto per il turno. A tal fine impostare il rispettivo segno di spunta per il cassetto che si desidera utilizzare. Nota, anche se non esiste un cassetto fisico è necessario selezionarne uno per iniziare il turno. Dopo aver selezionato un cassetto toccare ok per confermare la scelta. Una volta terminato il turno è necessario effettuare il logout. Per farlo aprire prima il menu. Una volta espanso il menu scorrere fino in fondo. Toccare quindi esci per disconnettersi dall'applicazione. È tutto. Hai completato l'esercitazione e ora conosci la procedura di accesso e di uscita.